credo che il mio mestiere abbia qualcosa di speciale è uno di quei lavori che fai perché ti piace sono un tutor non pensate all'autostrada quello ti dice di andare più piano io invece ti dico di andare più forte sono tutor cepu un tutor è quello che capisce il tuo personale modo di apprendere e sa come aiutarti a dare il massimo nello studio e poi ti insegna la cosa più importante che nessun ostacolo è insuperabile da sempre i centri studio cepu si occupano della tua formazione puoi preparare gli esami universitari e poi recuperare le insufficienze o gli anni scolastici con noi puoi frequentare un anno scolastico all'estero prepararti per i test di ammissione e molto altro ancora scopri tutti i servizi all'ottocento 33 11 88 o vai nel centro studio cepu della tua città con cepu arrivi dove vuoi